Abbiamo localizzato le celebrità scomparse. Confermate avvistamenti nella città di Venezia. Una squadra operativa è già sul posto. Dividetevi e restate concentrati. Massima allerta. Non possiamo perderli. Inizia la caccia. Attenzione, il celebra è in fuga. Inseguiteli. Non perdeteli. Stato scappando. Dopo non ho la chiesa mia, tipo mo sopra. Adoro, 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 adoro.